grazie grazie o popolo cittadini di campagna ignoranti e vagabondi grazie no altri siamo venuti a sapere maremacane che quegli altri dicevano che no altri e c'era peggio di loro altri ma se loro altri maremacane già avessero visto che si è fatto no altri allora quegli altri non direbbero mica che loro altri sono come no altri ma no altri saremmo sempre no altri e quegli altri avevano sempre bisogno da imparare da loro altri grazie popolo grazie cittadini di campagna ignoranti tre volte ricordatevi le parole le parole che di salighieri cavalli ardante poeta di Firenze non ti cura di loro maremacane anche se tu andassi a infarinarti anche se tu andassi a infarinarti in il mulino tu devi sempre tirare innanzi senza portarti indietro quei tu camminino sace 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 ora è il mio discorso e sarà costipato e l'ampante che la mia parola sarà quasi metallurgia cittadini di campagna ignoranti che voi altri non capite l'importanza che possa avere in questo momento dinanzi a quegli altri e se loro altri ci intendessero e se quegli altri capissero allora noi altri non sarebbe bisogno di quegli altri vuol dire che sarà pensato a fare lavatoi per le nostre donne che coi mari tirreni coi mari mediterranei e coi mari coglionici faremo un mare grande per le nostre lavandaie grazie 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 vor dire in comune quando vi varcerete domattina all'arba e vi vierete sulla piazza più grande del paese non troverete più un maremma chiavolo in comune ma vi troverete maremma cane un municipio e laddrento saranno messi gli serri i sifoni saranno messi i gradiafore e domattina vi presenterò i carcerotti che gli è il primo stato economico un franco e mezzo il paio e ora i saccata cittadini di campagna grazie 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 grazie